Conosciuta come la produce con le aree, il percorso museale che parte dalla presentazione generale delle forme del volo attraverso i filmicoli di eccellenza di tutte aree aeronautiche non vanta si sviluppa poi negli spazi destinati alla storia dei filmicoli ad etica, la galleria degli eroi e successivamente alla storia degli elicotteri. Inoltre aree giochi interne ed esterne, sala simulazioni di volo e biblioteca, la collezione piazzai e per finire la sezione dedicata al futuro del volo con il convertiplano, l'ambizioso progetto di Augusta Westland perfetta fusione tra volo verticale ed orizzontale.